Giornata mondiale del cuore alla clinica Montevergine, l'open day con 100 cittadini in attesa di effettuare screening gratuiti, controlli accurati con i migliori esperti. Le patologie cardiovascolari come conosciamo sono la principale causa di morte nel mondo occidentale. La prevenzione ha un valore fondamentale. Rimane una giornata importante, c'è stato un ottimo riscontro, anzi un riscontro fin troppo notevole e i nostri sforzi si stanno producendo in tal senso. Sono insieme a mia figlia, abbiamo deciso di fare questo controllo e poi ho molta fiducia in questa clinica, ci sono stati miei, quindi sono molto contenta. La prevenzione è importante per prevenire soprattutto numerosi attacchi e far sì che ci possa essere una migliore qualità della vita, quindi consiglio a tutti come me di venire a fare questo screening perché sia per adulti che per anziani è molto importante. Ma la giornata di oggi è importante anche per l'arrivo del nuovo amministratore delegato della clinica di Mercogliano, il dottore Antonio Merlino. Montevergine in questa giornata mondiale del cuore ha voluto fare la sua parte. Montevergine è un riferimento regionale ma anche nazionale nell'area cuore e quindi testimonia con questa giornata. Noi oggi faremo circa 100 visite specialistiche e controlli gratuiti. Ha voluto testimoniare la propria assoluta presenza nell'area cuore ma anche il proprio ruolo sociale per il territorio. Riguardo al futuro è un futuro fatto di sviluppo tecnologico imprescindibile. Da questo punto di vista Montevergine è attiva ed è pronta a cogliere le sfide che necessariamente dovrà vincere, speriamo, per rimanere un riferimento nel settore. Grazie. Grazie.